Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video Oggi più che fare un Get Ready With Me Perché come vedete sono struccata Quindi dobbiamo cominciare ancora il tutto Volevo presentarvi alcuni dei nuovi prodotti Che mi hanno inviato E sono sicura che un prodotto in particolare Avrà catturato la vostra attenzione Perché sono sicura che sarà una delle novità Più grosse dei lanci di quest'anno Per quanto riguarda prodotti cosmetici Di questo marchio Cioè Mulac Cosmetics E vi faccio vedere subito subito la scatola Questa è la confezione che mi è arrivata ieri Sempre ieri vi ho subito postato Perché le ho utilizzate praticamente subito Una foto su Instagram Se ancora non mi seguite andatemi a seguire Dove utilizzavo la Good Vibes Perché queste sono due nuove palettine Adesso ve ne parlo bene Una si chiama Good Vibes E l'altra Daily Mood Una colori freddi, una colori caldi Questo è il pacchetto Come arriva composto Come vedete ha questa scatola Tutta fiorata Poi si apre E all'interno abbiamo Una e due palettine Vi lascio qua sotto il sito di Mulac Se volete andarle ad acquistare Vi dico subito che ad oggi I prezzi sono scontati Non so quando andrò là in questo video Però ad oggi i prezzi sono Di 27,97 l'una Quindi ogni palettina Altrimenti a prezzo pieno Sono 32,90 euro Eccole qua Sto sul sito proprio In this moment La cosa bella di queste palette È che poi Le cialdine Si potranno anche Cambiare Perché faranno anche Dei fill singoli Delle cialdine E un'altra delle cose belle Adesso vi faccio vedere Aprendo la palettina Questa qui è quella Che ho già utilizzato Sulla foto su Instagram È che Si possono cambiare di posto Come vedete potete togliere Una cialdina E magari cambiarla di posto Rispetto a un'altra Quindi farvi anche la vostra Vi lascio anche Nella scheda informazione Il video che ha pubblicato Cindy Per quanto riguarda Appunto il lancio Di queste palettine Dove vi spiega meglio Composizione Eccetera eccetera Cose un po' più tecniche Quindi vi rimando Al suo video Io adesso invece Voglio testare con voi L'altra palettina Perché questa l'ho testata E mi è piaciuta Tantissimo Nonostante siano colori Che non utilizzo Tantissimo Quella invece Che andremo a testare oggi È la Daily Mood Che è quella Dai toni più caldi Ed è anche quella Con i toni Che utilizzo maggiormente Io questa ancora Non l'ho neanche aperta Praticamente L'ho lasciata così Infatti c'è ancora La plastichina Stac Che vado a togliere Così vi faccio vedere Come arrivano Poi all'interno Abbiamo Il foglio Trasparente Con tutti I vari nomi Delle cialdine Che adesso Si è un po' Suzzata Vabbè E questi sono i colori Guardate che bellezza Non vedo l'ora Di andarci a fare Qualcosina Tra l'altro Non so ancora cosa Quindi vedremo Tutto insieme Prima cosa che vado a fare È il mio cerchiettino Poi non fate caso Poi non fate caso Che oggi avremo Anche l'ospite speciale Sì amore Oggi non mi si scolla più Non so che ha fatto Oggi vabbè Lasciavo perdere Anche i capelli Perché li ho semplicemente Asciugati Senza dargli una piega Quindi questo è quello Che è uscito fuori Ma non siamo qui Per parlare di questo Quindi passiamo subito Alla paletta Come sapete Io trucco prima gli occhi Quindi ci sta tutto Vado a togliere Gli occhiali E sapete vabbè Che ho già applicato Il burro cacao E poi voglio applicare Questo prodotto di NYX Che si chiama Honey Dume Up Che ho scoperto Essere un primer viso Quindi lo vado ad utilizzare Cioè ultimamente L'ho utilizzato per questo Solite zone Un po' critiche E questo fa proprio Tipo da colla Per il fondotinta Ed è fantastico Non potete immaginare Poi non fate caso Che questi giorni Ho una pelle Davvero schifosa Per problemi vari Da donne Che mi capiranno Quindi ho Vedete un brufolino qui Uno anche qui Insomma Quindi dopo aver applicato Tutto questo Ben di dio Vado a mettere qualcosa Sugli occhi Come base Tipo un po' di correttore Così vado a coprire Tutte le discromie Quindi mi applico un pochino Ci tengo a precisare Che come vi ho già detto Prima Che non è un Get ready Perché in uno dei video Scorsi Avevo scritto Get ready Nonostante avessi Cioè parlato Tutto nel video Ma alcuni hanno detto Che non avevo parlato Quindi questa volta Precisiamo Che non è un get ready Ma volevo soltanto Farvi vedere appunto Le ultime novità Quindi sì È un mi trucco con voi Ma senza parlarvi Dei cavoli miei Insomma E di tutto quanto Quello arriverà A breve Insomma Visto che devo farvi vedere Un sacco di roba Quindi nei prossimi Sicuramente ci parleremo meglio Una volta fissato così La palpebra Vado a utilizzare Il primo colore Questo qui Che si chiama Wedding Planner Ed è proprio Un bianco gesto Così fisso Il correttore Su tutta la palpebra È una cosa Che ultimamente Faccio spesso Quindi questo colore Sono sicurissimo Ma mi servirà molto Poi sapete che Mulac È un marchio Che stimo particolarmente Perché oltre ad essere Vegano Insomma Non testare sugli animali Eccetera È un marchio Super super valido Fa dei prodotti Sempre molto innovativi Sempre molto ricercati Si ispirano molto Alle tendenze Quindi assolutamente Nulla da dire Ora prendo questo colore Che si chiama Yummy Ed è un colore Caramello Bruciato Molto scuro E lo utilizzo Come colore di transazione Quindi solito Pennellino Da sfumatura Prelevo Non troppo prodotto Perché non so bene Come si comportano Però lo vado ad applicare Qui nella piega Una cosa che ho notato Anche utilizzando L'altra palettina Ieri È che questi colori Sono davvero Tanto sfumabili E molto Stratificabili Sono colori favolosi Avendo messo anche Il bianco prima Mi aiuta a sfumare meglio Questo colore qui E poi vado a fare La stessa cosa Nell'altro occhio Come vedete C'ho messo tipo 30 secondi Non lo so Una cosa davvero Fenomenale Poi sapete Quanto amo Questi colori Molto Di modo Ultimamente Questi color Paprica Cannella Molto speziosi Altra cosa che mi piace Di questi ombretti È che non sono Per niente Polverosi Cioè Nonostante io Squata il pennello Dopo aver preso il prodotto Non scende praticamente nulla E questa è una delle cose Che apprezzo Mazzormente Perché I fallout Penso Siano Una delle cose Più brutte Che possono succedere Mentre ti trucchi Sia perché magari Hai già fatto la base Sia perché magari Ti sei già vestita Per una cosa o un'altra Ti vanno a rovinare tutto Quindi dopo aver fatto la struttura Vado con un colore Un po' più intenso Penso utilizzerò Questo marrone scuro Bello cioccolato Per intensificare L'esterno dell'occhio E questo colore Si chiama Bistro Prendo un pennellino a penna Così è bello preciso Come vedete Ne ho preso una puntina Ma guardate quanto è pigmentato Davvero bello So che questo video Sarà tutto così Davvero bello Davvero valido Ma sono proprio Entusiasta Poi quando Si trovano dei prodotti così Anche se Si ok Che te li inviano Ma sapete che sono sempre Giusta e corretta Nei verdetti No Quando c'è da dirlo C'è da dirlo Sempre tutto è valido E questo È uno di questi Assolutamente Quindi continuo A marcare l'esterno Dell'occhio Perché come potete notare Non ho un occhio Particolarmente definito Quindi in qualche modo L'ho fatto Non arrivo troppo all'interno Perché poi dopo Andremo a mettere Un colore super brillante Quindi Vado proprio a definire bene Soltanto Il contorno Vado anche un po' Sulla rima delle ciglia Ok una volta fatto questo Andiamo con il colore Che vi dicevo prima Questo bello brillante In realtà in questa palette Ce ne sono tre Belli perlescenti E sono Messi in questa disposizione Appena vi arriverà Poi se la volete cambiare Ripeto Si può fare I colori si chiamano Daddy Poi abbiamo Red Bash E quello che andrò a utilizzare io Che non potevano secondo me Trovare il nome migliore Lifestyle Lo vado ad applicare Con un pennellino A lingua di gatto Wow Vado a delineare bene L'occhio E poi lo sfumo Verso la parte Più scura Che abbiamo applicato prima Come sapete Quando registro I video tutorial O comunque I pietti ready Cerco sempre di mettermi Alla luce naturale Senza utilizzare le softbox Perché così i colori sono più realistici possibili E penso che questo colore Si mostri proprio a piano Fatto questo Riprendo il primo colore Che abbiamo utilizzato Che è il wedding planner E lo sfumo leggermente sotto L'arco del sopracciglio Quindi Questo era il grosso del trucco Con questa palettina Perché adesso poi La andremo a mettere un attimo da parte Poi dopo la riprenderemo Perché come sapete Vado a utilizzarla sotto Però prima devo applicare il correttore Impressioni finali Mi è piaciuta tantissimo Colori super pigmentati Super scriventi Davvero tantissimo Hanno un'ottimissima performance Per quanto riguarda la sfumabilità E anche le tonalità Perché si possono creare Sia dei look più strong Che dei look da giorno Più tranquilli Quindi davvero Super super promossissima Adesso passiamo al viso Prima abbiamo già applicato Il prodotto NYX E vado applicando Un altro prodotto Della NYX Che mi sta entusiasmando Tantissimo E sono questi nuovi fondotinta I Total Control Eccoli qua Questa è la boccetta La formulazione Che è molto liquida È una formulazione molto particolare Infatti viene venduta Con il pennello Opposito Sempre di NYX Che è questo qui Vedete all'interno Una sorta di conchetta Io infatti prima lo vado A utilizzare con questo pennello Per stenderlo Perché questo fondotinta È ripeto Molto liquido Preferisco farlo con questo E poi vado a sfumarlo Con la Beauty Blender Perché applicandolo soltanto Con la Beauty Blender Questo tipo di fondotinta Praticamente Mi svanisce sul viso Anche se è Molto modulabile Quindi potete fare Uno o due E più strati Però io preferisco Optare in questo modo Mi hanno inviato Cinque o sei colorazioni Se non sbaglio E io mi sono tenuta La 6 e la 7 Che sono praticamente Tra le più chiare Quindi immaginate Che partono Dalla prima colorazione Quindi dalla numero 1 E mi pare siano Più di 20 colorazioni Quindi davvero tantissime E anche questa È una delle cose belle Pensate solo Che io Che sono un fantasmino Uso la tonalità numero 6 Mischiata la 7 Addirittura Adesso vi faccio vedere In che modo Quindi vi ho detto tutto Allora Io utilizzo La colorazione numero 7 Sulla parte esterna Del viso E i punti luce Quindi questa parte Fronte e mento Vado con il numero 6 Vado naturalmente A scegliarlo bene E poi il prodotto Si presenta così Con il contagocce Guardate quanto è liquido Penso si possa notare Anche dalla biocamera Direttamente con la pompetta Sul viso Nei punti esterni E poi con il numero 6 Invece vado Ad illuminare i punti Ho provato ad applicare O soltanto il numero 6 O soltanto il numero 7 Però vengo sempre O troppo chiara O troppo scura Quindi questo è stato L'unico modo Per trovare Il colore giusto Per me E vado a sfumare il prodotto Non potete capire Quanto è bello Questo fondotinta Perché non si sente Assolutamente Sulla pelle Anche se è andato A fare più di una passata Rimane sempre Molto Confortevole Adesso sicuramente Dalla telecamera Potrebbe sembrare Troppo chiaro Ma vi posso assicurare Che è proprio Il colore giusto Vedete con questo pennello Gli do Una prima applicata Generale Anche perché Questo pennello Lascia un po' Di striature Quindi non è al massimo E poi con la beauty blender Spruzzata Con un pochino Di questo The Sleek Di Urban Decay Che è una sorta di primer Vado a sfumare il tutto Intanto bagno la spugnetta Così mi porta via Sia l'eccesso di prodotto Sia le rigature Del pennello Io mi trovo Molto bene Anche soltanto Con una passata Come vedete Insomma la mia pelle Non ha grandissime problematiche A parte i brufoletti Che mi sono usciti Ultimamente Ma in generale Non ho così tante cose Da coprire Più che altro Un po' di discromie E questo è proprio Perfetto L'unico difetto Che mi fa È che entra Leggermente Nelle pieghette Soprattutto qui Dopo qualche ora Che l'avete su Poi vado ad utilizzare I soliti correttori Quello un po' più giallino Per coprire le occhiaie E poi Il Naked Skin Di Urban Decay E ora vado a fissare il tutto Con la mia solita Cipria Di Rimmel La 001 Transparent Ora passiamo Le sopracciglia Perché ho Tra virgolette Cambiato metodo Per farle E infatti Prendo la solita Matita La eyebrows cut Intanto le vado A disegnare Poi prendo Il mascara colorato Di NYX Per le sopracciglia Nel colore Blonde E vado a fissare Le sopracciglia Con questo prodotto Che ultimamente Mi sta piacendo Tantissimo E poi Questa è una nuova Aggiunta Che faccio Ultimamente Prendo Questo correttore In pot Di MAC Questo è Lo studio Scalp Concealer Colorazione NC20 Con un pennellino Piccolo 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 Precisissimo Prendo poco prodotto Non troppo Lo scarico Un po' Sulla mano E poi passo Sotto Le sopracciglia Per delinearle Soltanto Nella parte sotto In realtà Per dare Una forma Più definita Poi con lo stesso Pennello Sfumo E ora Stesso modo Da fare l'altra Ok Una volta Fatto questo Riprendo La palettina Di Mulac E prendo YAMMY Il colore Che abbiamo usato Nella piega Con un pennellino Cicciottello Ma Bastanza bassino Vado sotto Nella parte Inferiore Sfumo Questo colore E lo congiungo Con la parte esterna Prima di finire Il trucco occhi Con il mascara Perché sapete Che se Non vado Da una zona All'altra Senza così A caso Non sono contenta Quindi vado A finire il viso Prendo sempre Una novità Mulac Che è Questa nuova Palettona Componibile Dove io ho messo Poi all'interno I miei prodotti Preferiti E vado a prendere Questa terra Per il contouring Che si chiama Hypno E con questo pennellino Prendo Il solito Illuminante Sempre di Mulac Che si chiama Eros Ed è Questo qua E vado Leggermente Anche un po' Qua sotto L'occhio E poi Per pulire il pennello Anche nell'angolo Dell'occhio Così ho un look Più luminoso Di questo Non esiste Adesso è il momento Del piegaciglia Non metto ciglia finte Anche se ci sarebbero bene Perché voglio Che questo look Rimanga Abbastanza Da giorno Non che le ciglia finte Non lo siano Ma Renderebbero il look Un po' più drammatico Invece voglio Che rimanga Abbastanza Nude Anche qui Come mascara Utilizzo Un nuovo Arrivo Che è Questo Mascara Di L'Oreal Che si chiama Miss Babyroll E mi sta piacendo Tantissimo Se vi piace Mettete un po' Di mascara Anche Nella parte inferiore E ora Per concludere Il rossetto E anche qua Rimango molto Sul nude Ma utilizzo Sempre un Prodotto Di Mulac Cioè Questa Velvet Ink Che è la 01 In My Birthday Sweet Però prima Come contorno Per questa tinta Voglio utilizzare Uno dei nuovi arrivi Di Neve Cosmetics Che sono le nuove Pastello Riformulate Ci sono sia per gli occhi Sia per quanto riguarda Le labbra Mi hanno inviato Tutta questa meraviglia E io per quanto riguarda Le labbra Voglio utilizzare Questa Matita Qui Che si chiama Marmotta Che sapete che è una delle mie Preferite di sempre Però queste riformulate Quindi la applico Per contornare Questo è il look Finito Io spero Tanto vi piaccia Perché a me Sinceramente Fa impazzire Proprio un look Semplice Però D'effetto Nello stesso tempo Quindi Mi raccomando Fatemi sapere Se riproducerete Questo look E se così fosse O mi taggate Su Qualche foto Su Instagram O se non volete postarla Mandatemela in un messaggio privato Quindi spero Questo look Vi sia piaciuto Quanto è piaciuto a me E soprattutto Vi avrei fatto Scoprire qualche prodottino nuovo Vi mando Un bacio in mezzo Ci vediamo al prossimo video Ciao ciao